ciao sono il dottor max della farmamax che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video dove io personalmente vi leggerò i bugiardini in questo video ti leggo il bugiardino del farmaco a zeptin di malife farmaceutica srl ultimo aggiornamento 17 settembre 2021 cosa a zeptino confezioni informazioni commerciali sulla prescrizione indicazioni posologia controindicazioni avvertenze speciali e precauzioni di impiego interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione assumere a zeptin durante la gravidanza e l'allattamento effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari effetti indesiderati sovradosaggio proprietà farmacodinamiche proprietà farmacocinettiche dati preclinici di sicurezza elenco degli eccipienti farmaci equivalenti farmaci esteri cos'è a zeptin a zeptin è un farmaco a base del principio attivo azitromicina di ivrato appartenente alla categoria degli antibatterici macrolidi e nello specifico macrolidi è commercializzato in italia dall'azienda di malife farmaceutica srl a zeptin può essere prescritto con ricetta rr medicinali soggetti a prescrizione medica confezioni a zeptin 500 mg 3 compresse rivestite con film informazioni commerciali sulla prescrizione titolare di malife farmaceutica srl ricetta rr medicinali soggetti a prescrizione medica classe a principio attivo azitromicina di idrato gruppo terapeutico antibatterici macrolidi forma farmaceutica compressa rivestita indicazioni trattamento delle infezioni causate da germi sensibili alla zeptromicina infezioni delle alte vie respiratorie incluse otiti medie sinusiti tonsilliti e faringiti infezioni delle basse vie respiratorie incluse bronchiti e polmoniti infezioni odontostomatologiche infezioni della cute e dei tessuti molli uretriti lungono cocci che da clamidia tracomatis ulcera molle da emofilus ducrii posologia posologia adulti per il trattamento delle infezioni delle alte e basse vie respiratorie della cute e dei tessuti molli e delle infezioni odontostomatologiche 500 mg al giorno in un'unica somministrazione per tre giorni consecutivi per il trattamento delle malattie sessualmente trasmesse causate da ceppi sensibili di clamidia tracomatis o di aemofilus ducrii 1000 mg assunti una sola volta in un'unica somministrazione orale anziani negli anziani viene usato lo stesso dosaggio dei pazienti adulti poiché i pazienti anziani possono essere pazienti con condizioni proritmiche in corso si raccomanda particolare cautela a causa del rischio di sviluppare aritmia cardiaca e torsioni di punta vedere paragrafo 44 popolazione pediatrica per i bambini dal peso pari o superiore a 45 kg può essere usato lo stesso dosaggio dell'adulto 500 mg barra di e per tre giorni consecutivi la dose totale massima consigliata per qualsiasi terapia pediatrica è di 1500 mg alterata funzionalità renale non è richiesto un aggiustamento posologico nei pazienti con alterazione della funzionalità renale da lieve a moderata gfr 10 80 ml barra min mentre bisogna avere cautela in quelli con gravi compromissione gfr 10 ml barra min vedere paragrafi 44 e 52 alterata funzionalità epatica nei pazienti con alterazione della funzionalità epatica da lieve a moderata può essere usato lo stesso dosaggio dei pazienti con funzionalità epatica normale vedere paragrafi 44 e 52 modo di somministrazione il farmaco deve essere sempre somministrato in dose singola giornaliera azeptin può essere assunto indifferentemente a stomaco vuoto dopo i pasti l'assunzione di cibo prima della somministrazione del prodotto può attenuare gli eventuali effetti indesiderati di tipo gastrointestinale causati dalla zetromicina le compresse devono essere deglutite intere controindicazioni l'uso di questo prodotto è controindicato in pazienti con ipersensibilità alla zetromicina all'eritromicina a qualsiasi antibiotico macrolide o chetolide o ad uno qualsiasi degli accipienti elencati al paragrafo 61 in pazienti con grave insufficienza epatica avvertenze speciali e precauzioni di impiego come con l'eritromicina e altri macrolidi sono state riportate rare reazioni allergiche gravi incluse angioedema e anafilassi raramente fatale che possono recidivare anche in assenza di una nuova assunzione del vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codifa.it interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione antiacidi nel corso di uno studio di farmaco cinetica sugli effetti derivanti dalla somministrazione contemporanea di antiacidi e azitromicina non è stato rilevato nessun effetto sulla biodisponibilità complessiva della zetromicina sebbene vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codifa.it interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale prima di prendere azeptini insieme ad altri farmaci come corlentor compressa rivestita e ptadone idrossiclurochina doc iva bradina accord iva bradina aristo iva bradina aristopharma iva bradina aurobindo iva bradina doc generici iva bradina eg iva bradina corca iva bradina milan farma iva bradina teva italia iva bradina azientiva metadone cloridrato molteni plaquenil procuralan ritmo dan ritmo dan retard eccetera chiedi al tuo al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere azeptin durante la gravidanza e l'allattamento posso prendere azeptin durante la gravidanza e l'allattamento non esistono dati adeguati sull'uso di azitromicina nelle donne in gravidanza in studi di tossicità riproduttiva negli animali l'azitromicina ha mostrato di attraversare la placenta ma non sono stati osservati vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codica.it effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari non è stato riportato alcun effetto di azitromicina sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari effetti indesiderati la tabella sottostante elenca le reazioni avverse identificate nel corso degli studi clinici e nella sorveglianza post marketing per classe di sistemi ed organi e per frequenza le reazioni avverse identificate vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codica.it sovradosaggio gli eventi avversi verificatisi con dosi superiori a quelle raccomandate sono stati simili a quelli registrati con dosi normali in caso di sovradosaggio sono indicate le appropriate misure generali sintomatiche di supporto proprietà farmacodinamiche categoria farmacoterapeutica antibatterici per uso sistemico macrolidi codice atc ilunga 01 fa 10 la zitromicina è la prima di una sottoclasse di antibiotici macrolidi denominata zalidi ed è chimicamente diversa dall'eritromicina chimicamente è proprietà farmacocinettiche assorbimento la zitromicina si presenta maggiormente stabile a ph gastrico in confronto all'eritromicina nell'uomo dopo somministrazione orale la zitromicina si distribuisce velocemente ed ampiamente a tutto l'organismo il tempo richiesto per dati preclinici di sicurezza in studi animali condotti con dosi elevate che superavano di 40 volte la dose massima impiegata nella pratica clinica è stato osservato che la zitromicina causa una fosfolipidosi reversibile generalmente senza elenco degli eccipienti eccipienti calcio idrogeno fosfato anidro amido pregelatinizzato sodio lauril solfato crospo vidone magnesio stiarato rivestimento ipromellosa titanio di ossido triacetina lattosio monoidrato farmaci equivalenti i farmaci equivalenti di azeptina a base di azitromicina di idrato sono azacid aziprome azitredil azitro r azitromicina abc azitromicina accord azitromicina albus azitromicina aurobindo azitromicina doc generici azitromicina e g azitromicina milan generics azitromicina pensa azitromicina pfizer azitromicina farmeg azitromicina sandoz azitromicina teva azitromicina zentiva azitrox batif macrozit Portex, Rizan, Ribotrex, Tetris, Trozamil, Trozucina, Zimacrol, Zindel, Zitrubiotic, Zitrogram, Zitromax, Compressa rivestita, Polvere, Zitronova, Fonte, Foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMaxi sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.